Ma ti sei mai chiesto perché le nostre amate band italiane si chiamano proprio così? Sono nomi indelebili che hanno segnato la nostra vita? Nel cuore, ma proprio dentro? Cioè avranno anche un senso? O no? Vediamola prima L'articolo 31 Il nome fa riferimento alla Section 31 del Broadcasting Authority Act del 1960 Una legge emanata dal Parlamento irlandese in seguito ai disordini in Irlanda del Nord Che costituiva una seria minaccia alla libertà di espressione Ma andiamo avanti Yeifel 65 Il nome è frutto di una scelta casuale di un computer Che in un lungo elenco di nomi individuò la parola Yeifel Poi fu aggiunto per errore il numero 65 Cifre che appartenevano a un numero telefonico scritto su una demotape Tutto completamente a caso Bellissimo Ma proseguiamo Gli 883 Prima si chiamavano i Pop E poi scelsero appunto 883 Che era la cilindrata della Harley Davidson Sportster Di cui entrambi erano molto appassionati Ma vediamo l'ultimo Elite FIBA È un acronimo che unisce L'Italia, Firenze, Via de Parti Ovvero l'indirizzo della loro prima sala prove No vabbè Tu lo sapevi?